Eccoci con Loris, Loris Capineri, buongiorno Loris Allora ovviamente in questo momento si stanno svolgendo i campionati di serie B e ci sono dei ragazzi molto bravi in finale un tuo allievo, Tarallo Tarallo contro di me, un altro grande talento dei castelli romani quindi due ragazzi del Lazio in finale campionati di serie B però io volevo chiederti questo Tarallo che tu lo hai praticamente cresciuto come fa ancora nel 2010 a competere con tutti questi arrotini con tutti questi ragazzi che tirano, picchiano questo era vero talento non è stato capito non tanto perché la federazione non ci credeva infatti per ben due volte l'ha selezionato per il carattere che aveva diciamo alla Cassano non l'ha saputo tenere e quindi è andato in giro per conto suo però il talento è talento io penso che sarebbe diventato uno dei migliori del mondo io pochi giorni fa con Facebook ho visto la sua fotografia faceva un dritto e l'ho commentato il suo dritto ho commentato il suo dritto, ho detto proprio la mossa che aveva fatto sulle gambe mi ha risposto tutto merito tuo professore sono belle soddisfazioni come no, sono soddisfazioni sì anche perché vincere oggi non è facile la palla cammina, c'è stata un'evoluzione incredibile nei mezzi nella velocità, nelle attrezzature eccetera ma questo trallo evidentemente con la tecnica che tu gli hai dato è un talento, un grosso talento, un fisico enorme, un atleta naturale e quindi abbiamo con il professor Cavineri salutato Tarallo, adesso vinca il migliore sarà una bella partita anche per chi riuscirà a vedere ma io gli auguro perché solo merita per tutto quello che da ragazzo ha dovuto sopportare ha sofferto molta gente non lo sa ma insomma ha sofferto ha sofferto allora viva Tarallo, viva Di Meo e viva il Lazio che ha in finale due suoi ragazzi e lasciamo il professor Cavineri perché va sicuramente a dare qualche prezioso consiglio a qualche attraverso un saluto al team Cavineri Bruno Cavineri Bruno Cavineri Bruno Cavineri c'è l'erete che fa a qualche attraverso